C'è qualcuno che si chiama Dio che ti ha fatto e decide per te e questo è qualche cosa che lo devi ricordare sempre perché mentre invece il campione resta, nessuno se lo può togliere. Lei mi dà lo spunto per farle una domanda, Chiara ha tirato in ballo anche un Dio. Se mi dai un'altra volta lei io mi alzo e me la vado. Tu mi ti combatta, hai detto un passaggio secondo me profondissimo per ritiro, poi detto da una persona nota in tutto il mondo che è ancora più importante, ma in una recente intervista hai dichiarato non temo la morte, dalla vita non esci vivo, disse qualcuno, siamo tutti destinati a morire, da cattolico provo curiosità, piuttosto la curiosità di sbirciare oltre. No, 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 aspetta un minuto, qui c'è una cosa incredibile. Nessuno essere umano, donna o uomo che esce dalla pancia di sua madre, di ognuno che ha la sua madre, giusto? Sì. In quel momento che fa uè è condannato a morte, giusto? Sì. Il quando non lo sa nessuno. Il più tardi possibile. Ma sì, anche questa frase, perché il più tardi è arrivato dopo un po', io ho 85 anni, per me sembra che ho fatto legare l'altro ieri, perché non ti rendi conto, il tempo è micidiale. Sì. E quindi la cosa diceva il paura della morte, quando hai paura sei fottuto, devi fare furto tenne. Anche sulla morte. È quello per forza, perché non è che puoi uscire da quella cosa. E io la curiosità è quella di capire dopo che succede. Ma non con questa voce, con questo corpo, perché quello che se ne va, non c'entra niente. Ma questa anima, che noi dobbiamo avere cosa. Allora io chiedo che succeda tutto. Stiamo vivendo un sogno. Per Bob Spencer Dio chi è? Dio non è con questi vocaboli. C'è qualcosa che sta lì, che ha fatto tutto questo e la curiosità è andare a vivere con lui, ma con l'anima, perché noi non ci saremmo più. Una vita eterna, come si dice. Ma certo, io sono pure curioso. Straordinario. Quasi diciamo, stiamo scoprendo un Bob Spencer un po' inedito, sono argomenti diciamo profondi, questi importanti. Capisco la leggerizza con la quale… Non posso vivere senza credere, per esempio. Ecco. Il fatto che io credo mi è dato innanzitutto, quando uno dice credo, nella nostra religione cattolica, cristiana, perché i miei genitori me l'hanno data, me l'hanno portata, me l'hanno fatta vivere. Nel momento che io esco da solo nel mondo devo capire quale di queste religioni, quale di questo mondo io appartengo. Sì. E devo dire, non è che ho studiato le altre religioni, ma le ho lette. Ma mi è rimasta sempre la mia cattolica cristiana. Questo fatto è la cosa che mi manda davanti e mi dà la certezza che qualche cosa dopo succederà. Ma per Bob Spencer Napoli che cos'è? Cosa rappresenta? Non c'è un posto al mondo che io non ho visitato. E devo dire che quando io penso e mi domandano qual è il posto del mondo che ti ha più colpito, io dico, io sempre con la mia memoria, entro con la memoria e vivo sempre a Napoli, perché non c'è niente da fare. Questa città con tutti i suoi problemi, con tutte le sue cose, vita, eccetera, passaggi di storia attraverso le cose incredibili, e c'è questa apipa go go fumba. Io lo vedo, lo vedo e quello rappresenta per me un qualche cosa di incredibile.